carissimi bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicata ai nuovissimi stiamo immersi dentro il giudizio universale che abbiamo la volta scorsa cominciato a trattare soffermandoci come di consueto quando apriamo un nuovo argomento per lo stile un po dato a questo ciclo di catechesi che è un ciclo di catechesi magisteriale quindi si cerca di seguire un po una regola abbastanza rigida anzitutto la fonte primaria della rivelazione che tutta la saga scrittura che ovviamente per noi cattolici non esiste senza il suo ancoraggio fondante oserei dire al magistero che poi sempre secondo step e poi la voce dei testimoni autorevoli io ho scelto volutamente insomma di rivedere i singoli nuovissimi attraverso una sintesi molto succinta forse troppo succinta dell'insegnamento di san tommaso e poi tirare qualche linea conclusiva sui vari argomenti dobbiamo adesso cominciare a dare un'occhiata a ciò che è stato detto del giudizio universale vedremo subito che è una cosa di cui la coscienza della chiesa ha sempre avuto assolutamente una lucida consapevolezza fin dai primissimi secoli cioè troviamo addirittura al numero 10 del densinger il numero 10 vuol dire che stiamo proprio nei primissimissimi secoli stiamo molto al ridosso del primo secolo no i primissimi simboli apostolici no i simboli apostolici con simboli si intende appunto i simboli di di fede no per esempio la tradizia apostolica di santi pollici romano densinger 10 ecco credi in dio padre onipotente si credi in cristo gesù figlio di dio che è nato proprio dello spirito santo la maria vergine fu cresciuto sotto ponzio pirato morire fu sepolto e il terzo giorno risuscitato dai morti scusate e ascese nei cieli sia dalla testa del padre verrà a giudicare i vivi e i morti il verrà a giudicare i vivi e i morti è un come possiamo immaginare è una affermazione costante di simboli fin appunto fin da quelli della primissima ora non ce ne sono tantissimi qui pensate che si va dal numero 10 al numero 30 del densinger vi dico il saltero del re e terstano il codex laudianus l'ex panazio simboli di sant'ambrogio ripetono sempre la stessa cosa quindi non vale la pena di leggere tutti quanti no? quindi c'è sempre il tema del di là verrà a giudicare i vivi e i morti di là verrà a giudicare i vivi e i morti di là verrà a giudicare i vivi e i morti questo fino al fino al 30 del densinger con il quale ci troviamo arriviamo da un punto di vista cronologico al al terzo quarto secolo ecco qui intorno al all'anno 300 il rituale battesimale romano che è l'ultima diciamo citazione il di là verrà a giudicare i vivi e i morti più avanti troviamo qualche articolazione ulteriore per esempio dobbiamo arrivare ecco per esempio qui ci sono le prime formulazioni che esulano dal dal credo si trovano un pochino più avanti che sono appunto i simboli dei secoli successivi a cominciare dal Papa Vigilio nel 553 guarda che qui ci sono tantissime pagine i cartacei sono sono più abituato qui cominciamo ad avere un pochino almeno di articolazione il figlio di Dio ha sofferto per noi è stato crocifisso nella carne è morto nella carne il terzo giorno risorse affinché perdurando la sua divina natura non soggetta alla sofferenza e conservata la verità della nostra carne professiamo le sofferenze e i miracoli dell'unico e medesimo Signore il nostro Gesù Cristo a ciò che il corpo di tutta la Chiesa in vista della godificazione del nostro capo tenda a ciò che vive nel nostro capo cioè in Cristo Dio e Signore come primizia dei morti anche in coloro che sono sue membra nella venuta della gloria futura dunque lo stesso nostro Redentore si è dalla testa del Padre uno e medesimo senza confusione delle due nature e così noi crediamo continuando ad esistere da due in due e in due nature e di là verrà a giudicare i vivi e i morti vedete si culmina l'affermazione è sempre culminante in questo in questa dichiarazione apodittica di là verrà a giudicare i vivi e i morti abbiamo poi ecco Papa Pelagio I che nel Densinger 443 nella sua lettera al re Childeberto del 557 ecco articola un po' perché questo paragrafetto si chiama deconsumazione mundi cioè la fine del mondo crede e professo cito che egli come scese nei cieli così verrà a giudicare i vivi e i morti ecco e finalmente abbiamo una articolazione dopo 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 diversi secoli tutti gli uomini infatti nati da Adamo e morti sino alla fine del mondo assieme allo stesso Adamo e a sua moglie che non naccono da altri genitori ma furono creati l'uno dalla terra e l'altro dalla costola dell'uomo professo che allora risorgeranno e staranno davanti al tribunale di Cristo affinché ognuno riceva la sua ricompensa per quanto di bene o di male ha compiuto nel corpo e ai giusti quali vasi di misericordia preparati per la gloria per mezzo dell'abbondantissima grazia di Dio donerà il premio della vita eterna ed essi vivranno senza fine in compagnia degli angeli ormai senza timore alcuno di una loro caduta gli ingiusti invece che per decisione della loro propria volontà permangono basi di ira preparati per la dovina che o non conobbero la vita del Signore o conosciutola l'abbandonarono vinti da molteplici prevaricazioni li affiderà con giudizio oltremodo giusto alle pene del fuoco eterno e inestinguibile questa è dunque la mia fede e la mia speranza che è in me per il dono della misericordia di Dio di essi dobbiamo come ci impone il beato Pietro Apostolo essere pienamente in grado di dare spiegazione a chiunque ce ne chieda ragione ecco è un testo molto bello questo qui facciamo una prima pausa dove si sente proprio l'afflato e la voce di un papa ecco di un successore di Pietro specialmente nella parte conclusiva questa è la mia fede la mia speranza che è in me per il dono della misericordia di Dio e di essa dobbiamo come ci impone il beato Pietro Apostolo pronti sempre a rendere ragione della vostra fede essere in grado di dare spiegazione a chiunque ce ne chieda ragione ma soprattutto il successore di Pietro deve essere in grado di dirla e di esporla in maniera limpida e chiara questo è uno dei classici passaggi quando si studia un pochino di appunto di di magistero non si può fare a meno di notare piaccia o non piaccia ma questo è un dato di fatto che le affermazioni più antiche questo ma neanche troppo non è che bisogna arrivare al 557 questa è una cosa che è andata avanti fino al 1700 fino al 1800 anche fino anche a San Pio X tranquillamente erano chiare allora qui viene articolato tutti gli uomini infatti nati da Adamo e morti fino alla fine del mondo questa è un'affermazione importantissima guardate che questa rimane vera anche oggi noi ci crediamo che tutti gli uomini sono nati da Adamo oppure diciamo sì tutti gli uomini sono nati da Adamo però la scienza dice altre cose quindi chi lo sa se è proprio vero che veniamo tutti quanti dallo stesso capostipite amici miei cari noi ci dobbiamo interrogare su queste cose qui molto più recentemente Pio X condannò ai tempi in cui era pontefice la cosiddetta tesi del poligenismo in greco polius poli polon significa molto poligenismo vuol dire genesi da molti cioè chi crede che la razza umana abbia più fonti di propulsione e non che tutti deriviamo da un unico progenitore capostipite comune è fuori della comunione con la chiesa sapete cosa significa questo ecco che siccome le verità di fede non possono contraddire la scienza attenzione quando la scienza è scienza vuol dire che chi afferma che noi non deriviamo da un unico capostipite comune ammantandosi anche di afflati scientifici scienziato non è tutto qui anche se si spaccia come tale o se si atteggia come tale o se si sprospetta come tale tanto per fare un esempio le tesi evoluzionistiche tutte nessuna esclusa sono tutte teorie scientifiche nessuna è scienza basta vedere i video al riguardo sta pieno su youtube di Antonino Zichichi che dimostra questa cosa quindi tutti gli uomini nati da Adamo e morti fino alla fine del mondo assieme allo stesso Adamo o a sua moglie attenzione altra affermazione pesante che non nacquero da altri genitori ma furono creati l'uno dalla terra e l'altra dalla costola dell'uomo e come la mettiamo e come dire visioni arcaiche da era ecco qui si è 557 siamo in pieno tempo di invasioni barbariche papapelaggio primo non era ancora venuto San Gregorio Magno sarebbe salito sul sogno di Pietro nel 590 quindi siamo molto in là e quindi noi ci crediamo che è Dio che ha creato il primo uomo dal fango come si dice come si legge nel libro della Genesi e che la donna è stata tratta dalla costola dell'uomo se non si vuole intendere questo proprio alla lettera assoluta che non è proprio forse necessario però certamente la verità che l'uomo è creato da Dio il maschio la donna è stata plasmata da Dio dall'uomo in qualche modo quindi come diceva il buon il grande Sant'Anselmo più che il buon dice allora il primo uomo Dio l'ha creato da solo la donna l'ha creata dall'uomo gli altri esseri umani nascono dall'uomo e dalla donna dice che ci mancava tra questo la cosa che Dio ha realizzato con l'incarnazione cioè un uomo tratto da una donna cioè il nostro Signore Gesù Cristo no? quindi un uomo tratto da una donna e quindi che nasce da una donna sola e così abbiamo finito l'uomo creato da Dio la donna dall'uomo gli uomini dall'uomo e donna e l'uomo dalla donna ed è questi grandi geni quindi tutti risorgeranno dal capo stipite fino all'ultimo uomo e si metteranno davanti al tribunale di Cristo qui c'è una citazione di un passo famoso uno di quelli che si regge a funerali alle seguite cattoliche si compare davanti al tribunale di Cristo per ricevere la ricompensa per quanto di bene o di male sia compiuto nel corpo e ci saranno due categorie di persone qui cita ancora San Paolo i vasi di misericordia preparati per la gloria e i vasi di ira preparati per la rovina citazione della lettera dei romani capitolo 9 versetti 22-23 i vasi di ira sono coloro interessanti che saranno tali per decisione della loro propria volontà decisione della loro propria volontà in che senso? nel senso che o non conobbero la via del Signore lo conobbero evidentemente nel senso di non vollero conoscere la via del Signore oppure conoscendola l'abbandonarono vinti da molteplici prevaricazioni questo è il testo certamente tra quelli visti nei primissimi secoli che maggiormente elabora e per la prima volta dettaglia un po' qualche circostanza interessante poi abbiamo abbiamo già visti per gli altri novissimi i famosi sinodi di Toledo qui abbiamo il quarto sinodo di Toledo del 633 anche qui c'è una certa inferiore articolazione il sinodo di Toledo tenuto sotto l'autorità di Onorio I produce un piccolo simbolo trinitario cristologico in conformità con le scritture divine e la dottrina che abbiamo ricevuto dai Santi Padri professiamo che il Padre il Figlio e lo Spirito Santo sono di una sola divinità e sostanza credendo la Trinità nella diversità delle persone e annunciando nella divinità l'unità né confondiamo le persone né separiamo la sostanza diciamo che il Padre non è stato fatto generato da nessuno asseriamo che il Figlio non è stato fatto ma generato dal Padre dello Spirito Santo professiamo invece che non è stato né creato né generato ma che procede dal Padre e dal Figlio invece lo stesso Signore nostro Gesù Cristo Figlio di Dio e Creatore di tutto generato dalla sostanza del Padre prima dei secoli negli ultimi tempi discesi dal Padre per la redenzione del mondo egli che mai ha cessato di essere con il Padre si è incarnato infatti dallo Spirito Santo e dalla Santa gloriosa genitrice di Dio la Vergine Maria e solo è nato da essa lo stesso Signore Gesù uno della Santissima Trinità attenzione è assunto senza peccato l'uomo completo in anima e carne e rimanendo ciò che era ha assunto ciò che non era è bellissimo questo simbolo è uguale al Padre nella divinità inferiore al Padre nell'umanità egli ha in un'unica persona le peculiarità di due nature in lui infatti sono due nature Dio e uomo non però due figli e due dei bensì il medesimo e una sola persona in ambedue la natura ovviamente quella divina specifico io egli patì sofferenze e morte per la nostra salvezza non nella forza della divinità ma nella debolezza dell'umanità discese negli inferi per liberare i santi che vi erano trattenuti e dopo aver vinto la Signoria della morte è risorto assunto poi in cielo verrà in futuro per il giudizio dei vivi e dei morti purificati dalla sua morte e dal suo sangue noi abbiamo conseguito la remissione dei peccati per essere risuscitati tra l'uno nell'ultimo giorno in quella carne nella quale ora viviamo questo l'abbiamo già visto no? a proposito della risurrezione della carne e in quella forma in cui lo stesso Signore è risuscitato a causa del peccato e scusate è risuscitato gli uni riceveranno da lui la vita eterna per i meriti della giustizia gli altri a causa del peccato la condanna al supplizio eterno quindi questo è un simbolo meraviglioso ci potremmo fare qui una lezione di qualche ora e neanche basterebbe per andarla a scandagliare di nuovo in maniera sintetica sempre il sinodo di Toledo nel 492 dirà questo Signore Gesù Cristo mandato dal Padre accogliendo ciò che non era senza perdere ciò che era familiarizziamoci con questa espressione è divenuto ciò che non era rimanendo ciò che era ha accolto ciò che non era senza perdere ciò che era diventa uomo senza cessare di essere Dio accoglie la natura umana nella sua divina persona ma non cessa di essere il verbo di Dio è quel eterno colpare inviolabile per la sua realtà mortale per la nostra venne in questo mondo per salvare i peccatori e giustificare i credenti fece miracoli è stato consegnato a morte a causa dei nostri delitti ed è morto per la nostra spiazione è risorto per la nostra giustificazione siamo stati sanati mediante le sue piaghe mediante la sua morte riconciliati con Dio Padre e risuscitati mediante la sua risurrezione aspettiamo anche che egli venga alla fine dei tempi e con la risurrezione di tutti renderà con il suo giustissimo giudizio ai giusti il premio e agli empi le pene quindi teniamo sempre presente che alla risurrezione o giudizio universale è collegata come dire sempre la dottrina della retribuzione ai giusti il premio e agli empi le pene sempre fondati chiaramente su quel passo di San Paolo che abbiamo già visto che Dio renderà a ciascuno quanto compiuto nel corpo sia nel bene che nel male il libro dell'Apocalisse usa l'immagine dei libri ognuno venne giudicato sulla base di quello che c'era scritto sui libri questo non dimentichiamolo mai amici miei cari abbiamo celebrato con gioia domenica la festa della divina misericordia che è una festa meravigliosa ma lontano da noi concetti sbagliati della divina misericordia e soprattutto lontano da noi una idea di misericordia che metta da parte l'altro aspetto ugualmente fondante e determinante tra i divini attributi che è quello della divina giustizia con il quale dovremmo fare i conti tutti anche quelli che ricevono la misericordia perché la misericordia ci perdona ci ottiene il perdono dei peccati commessi senza però risparmiarci l'espiazione e senza negare quindi le esigenze della divina giustizia abbiamo simboli anche dei magisteri successivi dove si sono espressi altri due papi sono Papa Leone IX nel 1053 e Innocenzo III il grande Innocenzo III nel 1208 e poi Concilio della Terranensia IV e Di Lione II nel 1215 e nel 1274 andiamo rapidamente a vedere anche queste dichiarazioni che credo non ricordo male le abbiamo già viste per la risoluzione della carne almeno qualcuna per esempio la lettera di Papa Leone IX la congratulando a Pietro patriarca di Antioca l'abbiamo già scandagliata a suo tempo è di nuovo una professione di fede polarizzata sulla persona del figlio l'articolo che ci interessa lo andiamo a rileggere perché facciamo un ripasso ecco di sana dottrina cattolica sul nostro Signore Gesù Cristo che di questi tempi dove che sia veramente Dio ci credono in pochi è bene è bene ripassare credo anche che il figlio di Dio Padre il verbo di Dio nato in eterno dal Padre prima di tutti i secoli è in tutto nella divinità della stessa sostanza del Padre di uguale onnipotenza a lui totalmente uguale è nato nel tempo con un'anima razionale come la nostra in virtù dello Spirito Santo da Maria semprevergine a due nascite una eterna dal Padre l'altra nel tempo dalla Madre a due volontà e operazioni contro il monotelismo cosiddetto due volontà e operazioni una volontà umana e una volontà divina un'operazione divina un'operazione umana è vero Dio è vero uomo è proprio e perfetto nell'una e nell'altra natura non ha subito commistione né divisione non è adottivo e non è frutto di fantasia è un unico e solo Dio figlio di Dio in due nature ma nella singolarità di una sola persona impassibile e immortale nella divinità tuttavia patì per noi e per la nostra salvezza nell'umanità con vera passione della carne e fu sepolto e risuscitò dai morti il terzo giorno con vera risurrezione della carne e ha confermato questo mangiare con i discepoli non per bisogno di cibo vedete che bello ma come atto di volontà e di potenza il quarantesimo giorno dopo la risurrezione ascese al cielo con la carne nella quale era risorto e con l'anima e siede ora alla destra del padre e di là il decimo giorno mandò lo spirito santo e di là così come ascese di nuovo verrà per giudicare i vivi morti e darà ciascuno secondo le sue opere vedete sempre lo stesso pattern di là verrà a giudicare e darà ciascuno secondo le sue opere quindi e riflettiamo sempre cioè sul fatto che noi ci stiamo segnando giorno dopo giorno la nostra sorte eterna innocenzo terzo lo stesso c'è di nuovo un simbolo apostolico culminante in questa condizione dopo aver mangiato e bevuto e salito al cielo sia dalla destra del padre e nella stessa verrà per giudicare i vivi e i morti con la giudizione universale e poi anche il concilio lateranese quarto che abbiamo già visto a proposito della risurrezione della carne dice leggo nella parte finale perché altrimenti rivediamo un pochino sempre le stesse cose disceso nella sua anima e risulto nel suo corpo agli inferi ovviamente e salito ugualmente con l'uno e con l'altro verrà alla fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti e per compensare ciascuno secondo le proprie opere i reprovi come gli eletti tutti risorgeranno con i corpi di cui ora sono rivestiti per ricevere secondo che le loro opere siano state buone o malvagie gli uni la pena eterna col diavolo gli altri la gloria eterna col Cristo e infine c'è il concilio di Lion 852 Renzinger dell'anno 1274 che anche qui stringatamente di là verrà a giudicare i vivi e morti e darà a ciascuno secondo le sue opere a seconda che siano state buone o cattive facendo un balzo di ben sette secoli circa arriviamo alla lettera sull'escatologia abbiamo già avuto modo di vederla della congregazione della dottrina della fede del 1979 e che si trova alla Renzinger 4655 dove per tutte quante le stupidaggine dette in tema escatologica negli anni 60 e 70 soprattutto la dottrina della fede sapete che l'organo magisteriale ordinario del papa si sente in dovere di ribadire che la chiesa conformemente alla sacra scrittura attende la manifestazione gloriosa del signore nostro Gesù Cristo che essa considera peraltro come distinta e differita rispetto alla situazione che è propria degli uomini subito dopo la morte ecco detto questo c'è l'ampia sezione dedicata al giudizio universale nel catechismo della chiesa cattolica i numeri di cui si parla di questo sono il 1083 scusate il 1038 1039 1040 e 1041 adesso li andremo a leggere e poi il 1059 nel 1038 si vedrà come il giudizio universale è preceduto dalla parousia e dalla risurrezione dei morti nel 1039 si afferma il carattere totale pieno e definitivo del giudizio universale mentre nel 1040 considerazione sul tempo del giudizio universale nel 1041 l'estrema serietà del giudizio universale e nel 1059 la professione di fede nel giudizio universale da parte dei credenti detto questo andiamo rapidamente a a leggerli proprio per esteso 1038 la risurrezione di tutti i morti dei giusti e degli ingiusti precederà al giudizio finale sarà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del figlio dell'uomo e ne usciranno citazione del mangiolo di san giovanni quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna allora Cristo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli e saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra e se ne andranno questi al sopplizio eterno e i giusti alla vita eterna vedete come risuona cioè la dottrina cattolica figlioli miei cari è di una chiarezza solare chiara uno ci può credere o non credere ma non è tanto difficile no? citazioni cioè questo numero è composto con un collage di citazioni bibliche atti 24 15 Giovanni 5 28 29 Matteo 25 31 33 46 cioè non è che si può uscire da questi chiari confini 1039 davanti a Cristo che è la verità sarà definitivamente messa a nudo la verità sul rapporto di ogni uomo con Dio il giudizio finale manifesterà fino alle sue ultime conseguenze il bene che ognuno avrà compiuto o avrà omesso di compiere durante la sua vita terrena e qui c'è una bellissima citazione tutto il male che fanno i cattivi viene registrato a loro insaputa il giorno in cui Dio non tacerà egli si volgerà verso i malvagi e dirà loro l'avevo posto sulla terra io avevo posto sulla terra i miei poverelli per voi io il loro capo sedevo nel cielo alla destra di mio padre ma sulla terra le mie membri avevano fame se voi aveste donato alle mie membri il vostro dono sarebbe giunto fino al capo eccetera ma la cosa bella tutto il male che fanno i cattivi viene registrato a loro insaputa e il carattere appunto definitivo pieno del giudizio universale manifesta fino alle sue ultime conseguenze il bene compiuto o che sia omesso di compiere 1040 il giudizio finale avverrà il momento del ritorno di glorioso di Cristo quindi segue la parousia e la risurrezione della carne è l'ultimo atto proprio l'ultimo della economia salutis la chiamavano i padri della storia della salvezza soltanto il padre ne conosce l'ora e il giorno egli solo decide circa la sua venuta per mezzo del suo figlio Gesù pronuncerà allora la sua parola definitiva su tutta la storia conosceremo il senso ultimo di tutta l'opera della creazione e di tutta l'economia della salvezza e comprenderemo le mirabili vie attraverso le quali la provvidenza divina avrà condotto ogni cosa verso il suo fine ultimo il giudizio finale manifesterà che la giustizia di Dio trionfa su tutte le ingiustizie commesse delle sue creature e che il suo amore è più forte della morte attenzione poi vedremo come specifica San Tommaso nel giudizio universale conosceremo e attenzione conosceranno tutti anche i dannati al loro ulteriore come dire fonte di di rabbia il senso ultimo di tutta l'opera della creazione e di tutta l'economia della salvezza e le vie mirabili attraverso le quali la provvidenza divina ha condotto ogni cosa verso il suo fine ultimo tutti quanti perché è l'ora della verità l'ora definitiva del re della azione è concentrata in questo evento infine 1041 per quanto riguarda questa sezione poi andiamo a dare un'occhiata al 1059 il messaggio del giudizio finale chiama la conversione fin tanto che Dio dona agli uomini in un momento favorevole il giorno della salvezza ispira il santo dimore di Dio impegna per la giustizia del mio di Dio annuncia la beata speranza del ritorno del Signore il quale verrà per essere glorificato nei suoi santi ed essere riconosciuto mirabile in tutti quelli che avranno creduto quando si pensa a queste cose si deve immediatamente volgere l'attenzione al fatto che io a questo giudizio devo riarci preparato e il tempo per arrivarsi preparato è adesso il bene che noi compiamo dobbiamo nasconderlo agli occhi degli uomini in quel momento sarà rivelato da Dio davanti a tutti voi pensate no? un poveraccio che subisce che ne so persecuzioni e odio da parte di un cattivo e prega notte e giorno davanti a lui mettendo in pratica davanti a Dio per il proprio nemico mettendo in pratica il Vangelo il nemico non lo sa ma pensate che nel giudizio universale non glielo faccia vedere il nostro Signore come se non glielo farà vedere perché come vedremo anticipo quello che San Tommaso poi spiegherà bene perché il secondo giudizio perché è universale perché non è soltanto una cosa per tutta l'anima e Dio ma perché lì viene fatta giustizia il bene lì verrà svelato e il male apertamente mostrato e condannato 1059 la Santissima Chiesa Romana crede e confessa fermamente che nel giorno del giudizio tutti gli uomini compariranno con il loro corpo davanti al Tribunale di Cristo per rendere conto delle loro azioni queste sono verità di fede divine e cattoliche e noi dobbiamo chiederci ovviamente dobbiamo chiederci ma io ci credo che verrà un giorno in cui ripreso lo stesso corpo di cui sono rivestito adesso sarò convocato in giudizio davanti a tutti mi parlo di aver citato nella puntata precedente il grande di Essire la sequenza che si cantava in tutte le sequie nil in ultum rimanebit non resterà niente di impunito conta stritte discursurus a rendere estrettamente a fare appunto un redderazionem stritte quindi rigoroso ecco questo è un po' una sintesi della delle affermazioni magisteriali ecco poi c'è tempo per andare a dare un'occhiata sì almeno iniziamo a quello che San Tommaso scrive sul giudizio universale che è un approfondimento di queste verità di fede come compito sempre della teologia la teologia la sana teologia non ha altro che il compito di riflettere sui dati di fede per approfondirli quindi per trarre attraverso l'intelligenza della fede alcuni corollari già contenuti nella verità in quanto tale ecco la prima cosa San Tommaso parla del giudizio universale in cinque questiones della somma teologia l'87 l'88 l'89 l'90 e l'91 nel cosiddetto supplementum cosa vuol dire il supplementum abbiamo già visto la volta scorsa che la somma teologia è rimasta un'opera incompiuta e l'ultima parte appunto che non ha scritto San Tommaso nella somma sono state poi completate attraverso scritti precedenti dell'aquinate appunto per completare l'opera altrimenti sarebbe rimasta incompiuta in ogni caso il pensiero è quello di San Tommaso anche se è un pensiero evidentemente ad una fase meno matura di quello della somma teologia allora la prima cosa che si chiede San Tommaso nella Quest 87 è la conoscenza che avranno i risuscitati rispetto ai meriti e ai demeriti allora prima cosa le coscienze umane dice San Tommaso d'Aquino conosceranno tutte tutte buono o cattive e perfettamente i propri meriti e demeriti sono i famosi libri di cui parla Apocalisse 20-12 noi il libro della nostra vita punto primo non ce lo ricordiamo bene punto secondo non lo sappiamo leggere pensate a questo paradosso noi lo scriviamo tutti i giorni ma mica lo sappiamo tanto bene leggere perché quel libro deve essere letto alla luce dell'altissimo le coscienze umane adesso la coscienza si può sbagliare nel senso che fa un giudizio che dice questa cosa mi sembra buona quest'altra mi sembra cattiva ma se la coscienza è erronea sbaglia lì no cioè dobbiamo capire che alla luce di Dio questo l'abbiamo già visto in un giudizio particolare non c'è scampo perché vediamo le cose nella loro oggettività oggettività inoppugnabile incontestabile e quindi il merito appare come merito il demerito appare come demerito punto e basta senza possibilità di contestazione o il libro della vita perché si parla anche di quello nel libro dell'apocalisse dice coloro che non erano scritti nel libro della vita furono gettati nello stagno di fuoco che cosa è questo libro della vita è quello in cui sono scritti i nomi dei cosiddetti predestinati alla gloria allora su questo tema teniamo sempre presente una cosa no perché sul tema della predestinazione sapete che parte della riforma protestante soprattutto da Calvino in poi ha detto delle colbellerie grosse quanto una casa allora noi abbiamo una conizione biblica dalla lettera di San Polo a Timotio che afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità per cui è verità di fede che non esiste essere umano anche non credente che non abbia avuto da Dio la possibilità di ricevere la salvezza per ricevere la salvezza occorre la grazia o la grazia santificante che è certamente una cosa ideale che è quella che viene conferita con il battesimo o quantomeno qualche grazia si chiama tecnicamente attuale con cui si riesce anche se non in possesso della grazia santificante in atto perché non battezzati non ce l'hanno a raggiungere condizioni certamente molto molto più difficili la salvezza ora che cos'è questo libro della vita voi sapete che Dio non può ignorare quello che per noi è il futuro e qual è l'esito delle libere scelte degli uomini anche se il suo non poterlo ignorare non condiziona minimamente in nessun modo il nostro libero arbitrio quindi in questo libro ci stanno i nomi di coloro che useranno bene la propria libertà e quindi raggiungeranno la gloria diciamo così che questo libro è scritto non con la volontà di Dio intenzionale ok in senso stretto ma qui bisogna cercare di spiegare su queste cose il confine con l'eresia per capire Calvino diceva che Dio predestina alcuni alla gloria e altri alla dannazione attribuendo la predestinazione alla dannazione a un atto della volontà divina intenzionale sapete quando si parla di volontà di Dio bisogna sempre molta attenzione perché le verità di fede sono chiare d'accordo però alcune di esse vanno circostanziate vanno specificate ecco perché i documenti a volte sono così meticolosi e così dettagliati perché già le cose della fede sono ombre e chiari oscuri noi vediamo in maniera imperfetta dice San Paolo conosco come in uno specchio ecco ci manca solo che vuoi fare confusione allora la volontà intenzionale di Dio vuole sempre il bene la dannazione non è una cosa in se stessa positiva quindi la dannazione non è voluta da Dio perché predestina qualcuno a dannarsi ma è frutto della volontà permissiva di Dio perché la dannazione abbiamo visto l'affermazione precedente deriva solo dalla volontà ostinata della creatura spero che sia chiaro questo argomento no? continua San Tommaso ma soprattutto a riguardo di coscienze ciascuno avrà coscienza delle opere altrui in modo tale che venga perfettamente glorificata la giustizia di Dio allora noi dobbiamo avere una mentalità sotto questo punto di vista intelligente per esempio la rinuncia a farci giustizia da noi stessi in questo mondo guardate che delle volte pesa eh tanto eh ma arriverà l'ora arriverà 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 mi si sono messi sotto i piedi e non lo meritavo lascia che lo facciano arriverà arriverà l'ora in cui quelli che ti si sono messi sotto i piedi e tu non te lo meritavi piangeranno e tu non piangerai la coscienza delle opere altrui quelli che sono stati perseguitati bistrattati ritenuti buoni a nulla ahhh diceva Donattino Negrisoleo adresanta vedrete quel giorno che succede arriverà è solo questione di tempo figlioli miei cari il tempo è sempre galantuomo ecco un giorno queste paroline di Don Leonardo saranno forse saranno anche dimenticate chi lo sa un lontano ricordo ma magari chi le ha sentite vedrà così magari fatemi fare una divagazione proprio sciocca no? dice ammazza però Don Leonardo l'ha detto durante la catechese non ha detto niente Don Leonardo perché Don Leonardo sta riferendo quello che dice San Tommaso da Quino è quello che insegna la chiesa quindi Don Leonardo fa sempre la sua funzione di perché questo deve fare un prete di dare voce quindi dare amplificazione parola a una dottrina che non è sua se Gesù stesso diceva la mia dottrina non è mia ma del padre che mi ha mandato proprio un prete un ministro di Dio questo lo dovrebbe dire sempre dovunque comunque per antonomasia mai parlare di niente che sia frutto della nostra cabocetta di cui non c'è bisogno nessun essere umano insomma ecco entrambe queste cose quindi che le coscienze conoscono perfettamente i propri meriti e demeriti ma anche le opere altrui avverranno per volontà di Dio dice San Tommaso perché in quel momento noi dobbiamo astenerci dal giudicare il prossimo per esempio in questa vita noi possiamo soltanto giudicare i fatti oggettivi ma non le coscienze perché non possiamo sapere cosa frulla dentro la persona ma ma al momento del giudizio universale e i peccati degli empi saranno resi pubblici e se uno non vuole che i propri peccati siano resi pubblici si affretti ad andarli a confessare con sincero pentimento perché stare attenti che i peccati su cui non c'è stata non è stato posto il sangue di Cristo ma mi vergogno a confessarli fratello mio sorella mia anzi figlio mio e figlia mia dato che sono un sacerdote oltre che un cristiano rifletti ma ti vergogni di più andare a dire questi peccati a un uomo che in quanto ministro di Dio che terminata la confessione ha il vincolo grave del sigillo sacramentale quindi non solo non ne può parlare con nessuno ma non ne può parlare nemmeno con te e di tutto quello che ha sentito se ne deve dimenticare quante volte succede a un prete che la persona che si è confessata poi ritorna a fare domande attinenti a ciò che è avvenuto in sede sacramentale io quando vanno che dici guarda che io non so niente di questa cosa non lo posso fare neanche col diretto interessato figuriamoci quando arriva che ne so vengono un giorno a confessarsi insieme marito e moglie dice come ti avrà detto mia moglie in confessione io rimango impassibile d'accordo è chiaro che so se quello che mi dice quella persona è vera o non è vero cioè se la moglie quella cosa mi ha detto oppure no ma io sono impassibile non approvo e non smentisco perché quella cosa non la so tolta la stola quella cosa deve essere sepolta si fa peccato anche a pensarci volontariamente quindi certo che c'è vergogna se uno ha fatto dei peccatacci brutti c'è vergogna ma non è meglio questo piuttosto essere pubblicamente svergognati davanti all'intero consesso della razza umana non lo so amici miei cari cioè tu vai con un uomo che è a blindà quindi che è finito quel quarto d'ora dieci minuti vabbè mezz'ora è finito ti sei tolto il dente e te lo sei tolto per sempre preferisci che sia messo tutto quanto in pubblica piazza perché lo sarà figlioli miei cari guardate che Dio cioè Dio è pazienta pazienta tutte queste cose saranno compiute cioè io quando mi viene anche da pensare per tante situazioni ma quando finiranno tante cose ma quando il signore ci metterà punto quando stai calmo mi dico il tempo è sempre garant'uomo cioè mi dico ricordati quando eri piccolino che avevo io c'avevo sto vespino dentro il garage che ce l'avevano i miei fratelli più grandi di me e sti 14 anni per salire su sto vespino non arrivavano mai quando arrivano e quando arrivano e poi sono arrivati sti 14 anni e poi sono arrivati pure 18 quando uno prende la macchina che si sembra chissà che e poi è arrivato pure il momento che si entrava poi stavi in seminario dice ma quando quando arriverà il giorno dell'ordinazione e non arriva mai e non arriva mai e non arriva mai e alla fine quel giorno è arrivato e sta prima mesta l'abbiamo celebrata quindi e il tempo è sempre garantito arriverà pure il giudizio universale può essere che mancheranno secoli millenni probabile ma arriverà niente di tutto quello che accade è tutto scritto nel libro della vita è tutto quanto conservato ci dice abbiamo imparato anche dal dal circo di che si ti tiene la mata nell'eternità creata ma se uno parla cioè se uno tiene presente queste parole i libri i libri dell'Apocalisse cioè tutto quello che io ho fatto rimane a causa della debolezza umana io adesso non mi ricordo tutte le cose che ho fatto oltre non mi ricordo ma quello che ho fatto l'altro ieri ma che io non mi ricordi non significa che quelle cose non ci sono più ci sono e come quindi se uno sa che magari c'è una parte della vita in cui ha scritto cose vergognose cerchi di scriverne un altro po' un po' meglio no ecco circa nella question 88 con una mentalità un po' tipica dell'epoca San Tommaso richiede il tempo e il luogo del giudizio universale e per quanto riguarda il tempo è categorico ed è tassativo sappiamo bene che nel Vangelo di San Giovanni non nel Vangelo di San Giovanni nei Vangeli Gesù stesso ha affermato quanto a quel giorno e quell'ora neppure non lo sa nessuno neppure gli angeli del cielo neanche il figlio ma solo il padre affermazione che ha fatto che è stata travisata dagli eretici che non si sono letti i simboli che abbiamo letto prima che lui è inferiore al padre quanto all'umanità ma è uguale al padre quanto alla divinità quindi che sta parlando sta dicendo questa cosa in quanto uomo non in quanto Dio ecco però per usare un'espressione addirittura fuori se non lo sa l'umanità santissima di Gesù Cristo prescindendo dal fatto che è unita alla divinità perché figuriamoci se lo può sapere qualche essere umano che l'unione con la divinità non ce l'ha quindi la conoscenza della fine del mondo è riservata solo a Dio non date mai retta e qui sappiamo che c'è stata una setta che negli anni passati non era tante di date a niente che riguardi questo e anche se mi posso permettere figlioli miei cari quando ci stanno profezie provenienti dall'ambito delle rivelazioni private raccomando sempre estrema prudenza sta piena anche la Bibbia di profezie ma sono almeno per quanto mi riguardi io sarò ignorante sarò non competente sono sempre ammantate già da aloni profondissimi di mistero che non ci consentono di fare delle affermazioni apodittiche sicure usando il verbo essere cioè il verbo essere noi dobbiamo essere sempre molto cauti su come lo 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 adoperiamo perché meglio dire sembra è provabile è possibile è verosimile cioè specialmente quando si parla di cose future similmente sul luogo di esso dice Sant'Omaso non si può conoscere non è possibile conoscere con certezza il luogo e il modo con cui avverrà l'ultimo giudizio né come gli uomini si raduneranno in vista di esso quindi inutile farsi queste domande di curiosità sappiamo che ci sarà e sappiamo a grandi linee sostanziali ma sufficienti per farci un'idea quello che avverrà il di più lasciamolo al Signore questa è una norma che più si segue e meglio è bene direi di fermarci sicuramente la prossima puntata concluderemo sia il giudizio universale che anche questo ciclo di catechesi perché siamo veramente agli sgoccioli quindi potremo fare la conclusione magari un Alexi un po' più brevis ed anche un po' tirare come sempre nelle ultime puntate dei lunghi cicli di catechesi un po' le somme di quello che è stato saluto tutti quelli che hanno seguito la diretta e anche quelli che seguiranno queste considerazioni di ferita alla prossima puntata che ci sarà sicuramente una ci sarà Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protege grazie